Si compro, sia fisicamente, che se è contenuti, ogni gruppo che ha proprio avviso le loro città, questo è un gruppo di correnti, estremamente antifacissimi. Questo mi fa capire come Antonio Merida non fanno guardare tanto un allenamento politico più o meno dell'altra notizia, ma comprando tutto. Non mi interessa, ma vanno a stare cercando artisti che accadono la benedizione della storia e di conseguenza vanno a comprare un Girolli, che ora quasi...